Marco Scaramellini trionfa nel ballottaggio delle elezioni comunali di Sondrio. Il candidato sindaco del centrodestra ha ottenuto 5.437 voti, il 60,37%, contro i 3.569, pari al 39,63%, dell'avversario di centrosinistra Nicola Giugni, cui non è riuscita la missione impossibile di recuperare uno scarto già evidente dopo il primo turno. La rimonta non c'è stata, anzi il divario è praticamente raddoppiato superando i 20 punti. Si conferma così una dinamica già rivelata nelle precedenti elezioni amministrative in città da 20 anni a questa parte. Il ballottaggio non sovverte la tendenza espressa nel primo turno. Anzi, stavolta Scaramellini ha toccato un picco di consenso mai raggiunto nella sua storia nemmeno da un sindaco popolare e longevo come Alcide Molteni, cui si appresta a succedere. Alle urne si è recato il 49,65% degli elettori, oltre 8 punti in meno rispetto al 10 giugno. È la più bassa partecipazione mai registrata in una consultazione comunale, ma anche questo era un dato largamente prevedibile. La notte del ballottaggio non ha riservato sorprese. Stavolta non c'è stato bisogno di fare l'alba per conoscere il risultato del voto, che anzi non ha offerto momenti di suspense. Nel quartier generale di Sondrio Viva il clima della serata di ieri è apparso subito sereno, poi sempre più festoso man mano che affluivano dai seggi i risultati. A conferma di una supremazia netta e sempre più incolmabile a favore dell'ingegnere 52enne, che solo per scaramanzia è stata trattenuta fino all'esultanza liberatoria a Palazzo Pretorio. Come già al primo turno, Scaramellini infatti ha prevalso in tutte le sezioni, con un picco del 72%. A distanza di 15 anni dalla vittoria di Bianca Bianchini nel 2003, un'esperienza finita anzitempo, una stagione diversa con cui nessuno vuol fare raffronti, il centro-destra dunque conquista il comune capoluogo, cancellando di fatto l'unica bandiera del centro-sinistra che sventolava nelle amministrazioni locali della provincia. Per Sondrio finisce un'era, diceva qualcuno ieri sera. Si volta pagina.